E' anche il raggiungimento di un obiettivo con sforzi importanti che sono durati anni ma che ne balsa la pena e i cittadini se ne accorgeranno perché questo è un pronto soccorso che riuscirà a rispondere a tutte le esigenze, senza sé e senza mai. È iniziata l'attività, merito a tutti quelli che in questo periodo, in questi mesi, in questi anni hanno dato forza, disponibilità, sacrificio personale per dare le giuste risposte a un bisogno di salute dei cittadini. Adesso il compito degli operatori, tutti, a iniziare dal direttore sanitario a tutti gli operatori che devono fare sforzi congiunti per far sì che questo pronto soccorso attivo al momento e una seconda battuta a dea di primo livello, poi ancora a dea di secondo livello, renderà questo ospedale funzionante e funzionale per i bisogni di salute della città di Napoli. Siamo determinati ad andare avanti con la convinzione e con la serietà professionale che ci contraddistingue. Tutto il resto per me è storia e acqua passata.